Cari amici e cari amici di Forgia, non vedo ora di vederci al mio concerto a Terro Giordano e il giorno dopo all'incontro con le ragazze delle scuole. Lì parleremo del nostro presente, dei nostri sogni, delle nostre passioni ed ovviamente di musica. Un saluto con grande affetto dal vostro compositore preferito Giovanni Alenzo. Ciao!